Benvenuti o bentornati ragazzi, siamo di nuovo su Banishers Ghost of New Eden per continuare insieme il nostro viaggio Siamo qui nella caverna, abbiamo appena ritrovato Antea Fantasma, stavo dicendo cadavere, ma non è un cadavere Il suo cadavere dobbiamo recuperarlo dal punto dove è morta, ma per fare questo, come ci ha spiegato lei nello scorso gameplay Ci aspettano ad affrontare intrighi, streghe, parlare con gente, fare, andare, quindi muoviamoci ragazzi 59 metri, andiamo verso New Eden, dovunque si trovi, benissimo, raccogliamo il raccoglibile Ce la caveremo insieme, ah sicuramente, Antea Cosa è successo? Cosa è successo? Ispeziona Ok, sì, gli inserchi di sale Qua cosa c'è? Ispeziona Durante una dell'esplorazione di questa nuova grande su cui abbiamo messo piede a Nerson e a Angard Abbiamo scoperto un luogo speciale, una gota cerata nella cascata finché nessuno poteva scoprire Va bene, sì ragazzi, non lo leggerò tutto Siamo qui, un quarto d'ora buono, va bene Nota dal demonologo Dove sei? Se mi scompari come faccio attaccare io? Ok qua, take your hand Gli anelli dell'epurazione Ah, posso muovermi con lei? Qua però non posso fare niente Ah, per rimuovere la tela Ah, qua Chiave dell'attrezzatura dell'occultista E' di qua l'attrezzatura dell'occultista Per passare a un te Eh, e cosa... quindi? Esci dalla grotta Ah, ok, sono il baule dal socio Ok, polvere spettrale, pezzo da 8, bene, 53 peraltro Coriamo, corriamocene Ehi, cosa succede qua? Buongiorno Bello Per eseguire un attacco non fuggendo le metalliche da vari posseduti Tienga, tienga, tienga Eh, a posto Te la puoi cavare alla grande, benissimo Ma sta grotta qui è tipo infinite Andiamo a salire Pedo della luce sopra Usciamo Ok Non siamo ancora fuori Ah, sì Trovo la strada nella foresta Cerca dei segni di vita Ok Bello con lei che ti passa accanto E che non l'abbiamo preso? Ma porca miseria Possedere i cadaveri, bene A posto C'è ancora qualcos'altro? Ancora posseduto? Che l'hai posseduto? Se riesco a prenderlo prima Ma non dubito Sì, ce l'ho fatta Sì, c'è pieno di spettri, è proprio raso, pieno raso di spettri Ma qui non può Ma cos'è sta cosa? Scusa, una lepre? Ok, perché sono marci Ok Ha detto che non la possono vedere Qui c'è qualcosa Si sale Qua c'è qualcosa però Ok Pirite, ragazzi Teniamo presa La pirite Cento metri Deve esserci un bombo E infatti si va di qua Lui è scozzese, ragazzi C'è qualcosa Ah, sì Sì, c'è qualcosa ma non Non possiede necessaria per sbloccare Va bene, ok Non possediamo l'abilità Si prosegue, signore Arriviamo a questo ponte Segni di civiltà, finalmente È impraticabile Ma non sono come al solito Per passare Antene C'è una patente per loro Non lo vedete? Si chiama per me E cosa? Ho forti piedi Ma a questa parte Non ci saranno E quindi? Ho forti piedi Ma a questa parte Ma Di qui? Antea? Ma di qua sì? Oh, stavo Pensavo di cadere, ragazzi Stavo lezzendo Cos'è questo? Adesso la rilagioniamo, ragazzi Piccolo spettrino Ok La fine del mondo Missione compiuta Buono, ok Affamare i cacciatori Missione iniziata Sì C'è qualcuno Inizio C'è qualcuno Taintero Lo dici perché Hai fame O è corrotto davvero Antea? Non prendimi in giro Andiamo a vedere Ma passi qua Ok Ok Ben Ben Ma non sono Ben Questo chi sarebbe? Cacciatore Hai fame, amico? Mangiamolo stufato Red Ah Cosa dici? Eh? Ah? Ah No Ci rifiutiamo Un curatore Un curatore Che bene Che ci fai qui Qui ci fai qui? What are you doing here? And you know we're safer Ah beh sicuramente, bisogna spostarsi, da quanto tempo sei qui? Ok è completamente pazzo il tipo Sembri esausto Ok fa gli incubi anche lui ragazzi Lo fa anche bene, ma chiesto adesso chiediamo chiesto Ben Ok, chi è Ben? Il migliore di tutti ragazzi, il migliore, the best Ma tornerà eh È caduto dal ponte Va bene, cosa si annida nell'oscurità? Come conosciuto Ben? Come conosciuto Ben? Abbiamo trovato l'altro Fratelli in spirito, diceva È molto buono per me È molto buono Perché? È importante per te Io? E io per lui Anche secondo me, a te Ok, addio Ok, addio Hai avuto il tuo primo caso di infestazione Deve indagare sul fantasma che perseguita Jacob Lynde Una scorciatoia nelle notifiche Apri il menu Sì Apro il menu Sì Eh Benedict Stogton L'amico di Jacob Lynde Li procura il cibo Sì Ok, fin qui Tutto bene Ispezioni A Tu dormi qui, Jacob? Ben dorme qui Io non dormo Oh, c'è maggotti nel ponte Strabello Che cosa c'è? Ispezioni Con questo Ben Ma cosa c'è? Mi piace ragazzi Perché c'è anche questa Questa cosa dell'indagine Mi piace, mi piace Ok, possiamo stoccargli la corda Questa corda d'aggistante viene usata principalmente per scendere in sicurezza Ah ok, per scendere di là, va bene Ok, andiamo a cercare l'amico lì Ben Super Ben Un fucile Questa bagnata non funziona più Si è bagnata la pietra focaia Ok, qua cosa c'è? Dio benedisse Ah ok, sono le preghiere del sovi Segui l'indicazione Risolvi l'infestazione Ho capito, ma... Forse è stato abbandonato, forse è sempre stato suo Dovevamo seguire proprio nel menu, come ci diceva lui Andiamo a vedere dove ci porta L'indicatore, ragazzi Ok, qua Si porta qui Qui c'è un lupo Ve l'avete in Pinebbia Ok, allora bisogna andare di qua Drop down Droppiamoci Andiamo giù nella nebbia, ragazzi Da bravi epuratori Vabbè, non era tanto alto Pensavo fosse a 100 metri Si vede proprio nulla, ragazzi Non c'è un... Se io faccio con lei... Ah, per fortuna Ok, la corda è lì Quindi si scende di qua Che bello che si deve trasportare Guardate Guardate Penso che posso ridurci Della quick list Oh Beh Sono partecipato Della stessa cosa Ok, vediamo Togli E A posto Ok, ci sono... Ci sono arrivati Mister Lupo A cartoni ti prendo Che a te Scopriamo chi è morto Sì Ispezione C'è anche un eco Esegui il rituale Rimembranza Svela un eco Proviamo, ragazzi Questo pugnalino Tan, tan, tan Velocissimo Sollevo dunque Il velo delle ombre Tirate su un po' di... Di terra su Mi faccia vedere Mi spieghi 23 metri Di qua Ehm Ehm Non posso Non posso Non posso Non posso Non più Non so Nelle Teste Linde Non ci sono Il cuoio è bollito, mangia, no? Strabuono! Ma è tipo suo fratello? Ma serio? Ma dai, Jacob ha mentito. Ok, andiamo a trovare il body, ragazzi, che penso che sia qua sotto. No, aspetta che qua c'è la piantina, ok. Mi scenda, Red, mi scenda. E gli amici Reed. Ok. Eccolo. Ispeziona. Della sua carne? Ritratto, mi ha dato ritratto. Aspetta che... Jacob l'ha ucciso e consumato il suo amico. Madonna questo qua. Allora, proseguiamo, ragazzi. Dobbiamo tornare, penso, dal tipo là a scoltellarlo. Cosa del genere. Per giustizia. Un po' di giustizia. Di qua? Cosa? Buongiorno. Tutto bene? Tutto a posto? Lei chi è? Molto bene. Ce ne sono altri? C'è lei? Non me li locca mai. Deve non restare in là. Ok. Ok, la nostra corda è questa. Salviamo. Cosa c'è? Cosa c'è? C'è? Chi c'è? Aspetta che passo a Natea qui che è molto più pratica. Eh, questo è cattivo però, eh. Non mi chiede per il gioco. Mi faccio passare la voglia. Ma ancora? Grande. A posto. 38 metri. Torniamo dal socio, vediamo... Ok. Cerchiamo il vincolo mentre Jacob è fuori. Questo, vediamo. Ispezione. Una ciotola, un cucchiaino tagliato a mano si tira Jacob online. Questo vincolo è infuso nell'essenza del suo venterno. Una volta che la risoluzione avrà restato il legame spettrali in questo mondo, l'essenza del suo venterno è un'antena per i giovani. Ok. Fai manifestare il fantasma? Dove lo facciamo manifestare? Come on, let's talk to Ben. Ma qua... Ah, qui? Qui parliamo con Ben. Ehm... Costinge un fantasma a manifestarsi. Ok. Vediamo se abbiamo delle informazioni in più. Eccolo. No, non sono Jacob. Chi sei tu? Mi chiamano Red Macraith. Uno scozzese. Io? Antea Duarte. Siamo banicatori. Possiamo aiutarti. Sono più oltre aiutare. Onde è Jacob? Perché ti trattieni e hai cercato di andare via? Da quanto tempo eravate nella foresta? Da quanto tempo eravate... Partiamo da sotto, ragazzi. Da un paio di inverni. Questa foresta... Questa foresta maledetta. Hai cercato di non andare via? È un gatto è fallito. tra week on week, month on month maybe we went in circles the woods are tricky sir treacherous, mean round and round we went round and round and back again Jacob said you both had nightmares the same nightmare aye and yet we got no sleep couldn't tell truth from fantasy Ok, perché ti trattieni? Ti ha ucciso lui? Sì, sembra smarrito, sembra bravo a mentire, sembra bravo a mentire! Un uomo di Dio! Un uomo di Dio, puro e vero, sempre! È il meglio di noi! Sì... Ma che ho denunciato, ho visto che veniva venuto. Ho diventato... ...dicato... ...perché lo pensavo anch'io. Cosa vuoi da Jacob? Cosa vuoi da Jacob? Sì, chiesti la scuola? Non chiesto la scuola. Io sono lui e lui è me... ...di cosa hai bisogno? Deve affrontare la verità... ...ah, bisogna metterlo davanti al fatto... ...compiuto, ragazzi... ...e farlo ragionare, dici bello, l'hai fatto, tu accettalo. ...buoni e onesti. Eh... ...non potevi farci... ...mi dispiace, diciamo, mi dispiace. Eh... ...non potevi farci... ...mi dispiace, diciamo, mi dispiace. ...diciamo, mi dispiace. ...diciamo... ...forse ci rivedremo. 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 Giungi a una risoluzione. Devo andare là a parlare con il socio. Deve confessare, infatti. La verità lo distruggerà, il suo rifiuto è davvero forte. ... ...parliamoci. ... ...è successo qualcosa? Hai provato ad andare via? Io lo diciamo così. ... ...questa è casa nostra. ... 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 eri su quella strada e l'altro è a posto benissimo ok giungi a una risoluzione siamo giunti è fatta la carne è debole caso di infestazione concluso molto bene grazie per essere rimasti con me fino ad ora lasciate un bel mi piace iscrivetevi e alla prossima ciao ciao ciao